ciao a tutti ragazzi da tfg on demand guardate nuova serie quindi lasciamo tantissimi mi piace da zero a da mille adesso ho creato e ho ripreso taylor replay e sono entrato nel clan di di shadow del fratello non è il mio non è il mio clan che dopo ogni tal cosa praticamente l'obiettivo è visto che sappiamo già sappiamo già un po toccara clash of clans adesso ci sono chiesti in tanti invece è cambiato quindi più difficile farmare ricominciare dal municipio scrauso adesso municipio al 4 e vedere come riusciamo a salire se riusciamo allora intanto la prima la prima regola che ci mettiamo è che prima ci mazza tutto per essere esatto esatti adesso guardate ho fatto intanto un po di già avevo fatto le mini dei depositi adesso già 87 mila d'ora però due costruttori liberi pertanto oggi metto a potenziare il mortaio subito perché è forte e soprattutto dovremmo avere più presto possibile cinque muratori è esatto dovremmo avere un po di gioco guarda quanti cosa si va da toglierli toglierò non quello in un video ma li toglierò da solo ragazzi prenderò un po di gemme dalle dagli ostacoli per farlo anche adesso intanto e adesso no potenzio non so se il potenziarmi tipo miniera no una miniera una miniera per potenzio d'oro d'oro questa qua questa qua perfetto 12 ore 12 ore guardate la difesa che mi è riuscita sia chiaro questa conformazione di villaggio è stata una mia idea e guardate come ha funzionato ha funzionato ha funzionato alla grande per vedere com'è funzionato soldo per pure una bocca per troppo forti non ce la fa è poverino ora guarda questo ha i giganti a livello 1 ha già dei goblin arceri a livello 2 barbara e livello 2 quindi è già abbastanza fortino se guardate praticamente cosa ho fatto io ho messo e il mortaio al centro e il municipio un po vicino più più vicino alle mura perché guardate adesso il mortaio ok che non sta sparato ai giganti ma sta colpendo i arcieri da questa parte e sappiamo benissimo che giganti su livello 1 nonostante abbia solo due difese un arciere comunque rompono le palle e moriranno questi giganti e nel frattempo il mortaio continua a sparare all'esterno del villaggio pertanto anche se mettono gli arcieri o i barbari da questa parte comunque continuerà a colpirli esatto il mortaio continuerà a colpirli quindi ragazzi questa difesa cosa si ma guarda i barbari di livello 2 belli 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 carini fate che metto un po livello alla 2-2 per e dove c'è un attacco ragazzi che ho fatto con metà truppe anche perché mi ero dimenticato che avevo già due accampamenti guardate vi faccio un attacco è stato anche abbastanza carino e guardano registra attacchi ho preso 35 mila dai 20 mila che a livello 4 il municipio guarda senza mura rinnegan senza mura che bello attacco nobile avrei fatto avete fatto un attacco nobile bellissimo e tra l'altro ho usato non ho usato il massimo di barbari che potevo portare via potrei mettere però qui in alto così dovevano subito verso il marina marina guardami guarda cosa sto facendo ormai io so giocare con queste queste truppe no pertanto il 100% è stato semplicissimo ma bene non ha muro non ha muro va tutto nelle miniere perfetto è veramente sempre delle risorse considerate che prendere 30 mila mia mi ha riempito il deposito quel giorno è stato emozionante è stato emozionante è un po sì un po sì guardate guarda subito davanti due per e ragazzi se vi piace la serie vi raccomando esatto supportateci la nostra nuova serie perché secondo me chi verrà fuori una bella cosa chi nel 2015 ricomincia ricomincia a giocare a clash of mind no quasi nel 2016 ormai e guardate qui riesco a fare il 200 il il 200 per cento rompe il due volte il villaggio adesso è vista come se a potenziare e ho sbloccato da poco gli arcieri si sono sbloccati da poco ho sbloccato da poco gli arcieri ma esatto però no voglio un plauso e basta guardate adesso faccio così puff c'è anche il game inizi già già male ma che se ne frega massimo compro un paio di gemme compro giusto una cassa troppo poche risorse oddio è vero perché ragazzi l'obiettivo è di dare nel suo clan non è il mio clan del clan del fratello di rinnegan e fare così richiedi truppe ho bisogno di rinforzi solo per me per rinnegan per rinnegan per me se no loro non capiscono vediamo un po cosa mi dona rinnegan allora mi da uno e due maghi il livello 6 e un barbaro livello 7 aspetta no fermo guarda che bello fermo cosa c'è appunto darmi qualcos'altro si posso dare ancora una roba e no puoi darmi sì uno spazio vuoto dammi un barbara dai via dammi un barbarino ecco guarda due maghi e livello 6 e un barba due barbari livello 7 perché sei stupido no non so cosa fare sinceramente boh si in effetti si sono i campamenti facciamo così buttiamo un po di barbari qua un po di barbari qua così il mortaio inizia a sparare da quella parte e io metto il bar tutti i barbari qua in l'orda l'orda barbarica esatto adesso mettiamo qua un po di arcieri perfetto usiamo i tuoi giganti qua e si ma il gigante i maghi maghi aspetta che buttano gli arcieri qua che buttano giù il cannone vediamo un po cosa succede a questa no stanno già coprendo il mago che bastardi ma ci sono i barbari davanti o un mago è andato però guarda cosa succede adesso poff e poff morto perfetto ormai distrutto le difese no c'è ancora un cannoncino no che cannoncino dove lo vedi assicuro la vedo l'arcere io però l'arcere bastardissimo ma questo cazzo cazzo grosso che il mago guarda guarda il mago possiamo il mago possiamo zoomiamo sul mago guarda ora boom boom vediamo un po cosa succede al municipio adesso boom boom perfetto perfetto dovremmo attaccare con gli sgarri visto che loro non hanno difesa era o ragazzi il prossimo video facciamo una cosa epica di potenza di castello comunque semplice attaccare chi adesso 100 per cento che testa 75 milioni mille milioni e volte oddio cos'è no mai perché ci avete rotto il cazzo adesso facciamo così più e dopo mi comprerò un po di gemme devo fare costruttori ragazzi così cresco ciao a tutti al prossimo video